Buongiorno, discesino nevosa, massaggio. E' quello con l'arancione? Cosa ti sai? Ah, ha le molle! Come mai? Perché ce l'aveva troppo duro e allora ci disse molle! Non puoi fare la polizia, non puoi fare! Tutto, ci puoi mettere fuori quanti... Unimog! Per secai! Questi sono i piccoli! Bravo! Frasca, frasca! Tutto fatto! Gioanni! Rosario, non collare la generatore! Salda, salda! Rosario, ne fanno stare, non f***a! Salda, salda! Gioanni, ci sei! Aspettare! Sì, di poco! Va bene! Sì, di nuovo ragazzi!